è sbagliato, con cui si ferma, che ha preso anche una botta al ginocchio e siamo ai 100 metri, loro non si fermano, abbiamo visto la grandissima gara di Juplantis con il primato del mondo Rio 2016 100-200 allora per lei la ragazza giamaicana Elaine Thompson, che di solito va a Lignano a preparare la stagione era il posto dove si allenano, stavolta no attenzione, corsia 1, Anna Buongiorno, in 2, Imani Lansicuot, Gran Bretagna poi Kayla White, americana, Alea Hubs, americana Elaine Thompson, la giamaicana poi attenzione alla netta crescita della ticinese di Bignasco, piccolissimo centro Ayla del Ponte, poi Marie Josetta Lu, Costa d'Avorio Anthony Strachan, Bahamas, Mary Van Hunenstein dei Paesi Bassi, grande partenza in 3 per Ayla del Ponte e poi Thompson, la grande volata Thompson che va a fare 10 e 84 sensazionale, sensazionale, due centesimi meno della compagna di allenamento che l'aveva battuta in quella circostanza a Kingston la lungo corteggiata Gigi Donofrio per averla qua, tutta una serie di tamponi, viaggi i tamponi, i visti 10 e 85, il miglior risultato al mondo quest'anno migliorando quello di un centesimo, quello della connazionale che l'aveva proprio sfidata in quell'occasione, battendola di due centesimi una gara perfetta da manuale, una buona accelerazione con la testa molto bassa adesso la parte lanciata compostissima, rapida, veloce è arrivata anche dritta senza bisogno del tuffo, bellissima prova quindi ha perso quel centesimo rispetto a quanto preso dalla display 10 e 85, un centesimo meglio di Shelyan Fraser-Price ci riprova, secondo salto secondo salto a 2,32 decide quindi di giocarsela nel testa a testa con Andrei Prazenco che, bello a vedersi, a sua volta partecipa nel ritmo, dell'applauso ritmato ha due tentativi al 2,32 che rappresenta il primato stagionale in tutti i sensi perché al coperto aveva saltato 2,31 quest'anno Gianmarco Tambelli un bellissimo 2,27 che lascerebbe intuire e immaginare belle cose è un bel tentativo a 2,32 c'è una leggera zoppia eh sì, l'ho visto prima un eventuale altro tentativo tra poco se ne saprà di più allora 10,85 per Elaine Thompson, Jamaica 11,12 Aleia Hobbs, americana 11,14 Marie-Josè Talou la Ivoriana, 11,19 per Aila del Ponte, la Svizzera in mano in l'ansico, ata 11,23, 11,27 Kayla White 11,38, la buona gara della Pisana, Anna Bongiorni sui suoi livelli top di quest'anno che ha battuto 0,2 Mareie von Hünenstein la atleta dei Paesi Bassi buona gara della Carabiniera Toscana von Hünenstein e Anthony Stracken non in grande condizione la Bahamense ci siamo fermati al salto con l'asta vedo relativo movimento vediamo se c'è qualche altro segnale dopo il primato del mondo al coperto quindi due salti, due gare riuscite con misure più alte rispetto a questo 6,15 Prazenco il salto riuscito con un pizzico abbondante di fortuna ma conta che l'asticella rimanga su e il 2,30 è su e adesso ci sarà l'ultimo tentativo a 2,32 di Gianmarco Tamberi caporale grazie Franco e Elaine Thompson thank you very much for waiting you're welcome and congratulations thank you this is a lot thank you you came here for your first international meet and you are doing this sei venuta per il tuo primo meeting internazionale di quest'anno riesci a fare questo what about it's a wonderful trip I was super nervous and scared because of the whole pandemic thing traveling the mass it's really uncomfortable but you have to adjust to the new new environment and to come here to another city is the best I'm really grateful si c'è stato un viaggio complicato tanti controlli tanta preoccupazione tanta paura anche ce lo spiegava anche ieri Elisabetta si ecco Tamberi ma lo aspettiamo un attimo perché ha fatto una grandissima cosa Elaine Thompson e può continuare a raccontarsi 2,32 ultimo tentativo di questa gara per provare il sorpasso Frazenco ha rinunciato ai 2,32 andiamo a schermo totale per Gianmarco Tamberi per questa prova aveva già fatto bene nella precedente non male neanche questa finisce con un secondo posto comunque molto buono grande gara per lui che s'arrabbia è ancora la grandissima Elaine Thompson grazie sorry sorry we are live and we have you know we have some great italian athletes that are racing like you so you were saying that was quite hard stavo spiegando che per lei è stato parecchio difficile anche molto preoccupante you were quite worried to to travel of course and yesterday you were saying to me that you know a little scared for all the pandemic period è stato anche spaventoso il periodo della pandemia in Jamaica come ho detto nobody expected this whole pandemic and come ho detto il lavoro deve essere fatto nel prossimo l'Olympico we have to keep on pushing our body getting our body fitter for next year si malgrado tutto nonostante la pandemia noi siamo atleti lavoriamo per le Olimpiadi bisognava stare bene bisognava essere in forma and this is the demonstration you know you are showing it and I was saying this is my third win in Roma and I really love it è la terza vittoria e è molto felice di questo terza vittoria a Roma thank you very much grandissima gara di Elen Thompson in corso mentre